Io, se vero in tv, la verità è che la cattiveria la tagliano. Se qualcuno mi conoscesse davvero, dopo dieci minuti girerebbe i tacchi. Se lo dice Carlo Cracco sarà anche vero, ma è pur vero che erano in centinaia e molti sono rimasti in piedi coloro che in barba alla pioggia sono arrivati al centro congressi di Confesercenti Vicenza per vederlo, fotografarlo, sentirlo parlare e strappargli un autografo magari sul suo sesto libro, A qualcuno piace Cracco. Questo libro è bellissimo perché è una passeggiata culinaria nelle regioni d'Italia quindi anche il Veneto evidentemente, ma la riscoperta della cucina regionale quindi anche il grande chef sa che nelle tradizioni c'è l'essenza della buona cucina. A promuovere l'evento con Fartigianato e i ristoratori d'ECO. Chi siete? Il nostro gruppo è un gruppo di ristoratori che promuove il territorio noi lo facciamo da quello che sappiamo fare, cioè partendo dall'enogastronomia e Carlo Cracco ci ha tenuto a battesimo due anni fa in un importante evento proprio perché anche lui, come noi, condivide questa filosofia cioè di promuovere il territorio, promuovere l'eccellenza e il Made in Italy per questo con orgoglio posso dire che Carlo Cracco è uno di noi. Cracco, inflessibile giudice di Masterchef Italia, accolto come una star, giocava in casa e è nato infatti nella vicina Creazzo. Lei ha sempre una buona parola anche per i giovani, se dovesse dire qualcosa a un ragazzino che frequenta la scuola alberghiera per diventare un grande chef, cosa gli direbbe? Di approfittarne, che è il momento buono, per cui il mondo è bello grande, bisogna andare a conquistarselo. E ho letto che lei ha detto, sono davvero stronzo dentro, in che senso? Ed è vero? Sul lavoro, sì, perché bisogna esserlo, perché se no non ottieni niente. Purtroppo per ottenere determinati risultati bisogna essere precisi, per cui non esiste la via di mezzo. Nel suo futuro c'è anche Masterchef 4? Oddio, di ancora finire l'altro mi sembra prematuro, però spero di non farlo per tutta la vita. Una donna la vedrebbe bene tra i giudici? Io vedrei meglio tre donne. Mi hanno detto di chiederle chi cucina a casa sua. Secondo lei? Io? Cucino per tutti, per cui non cucino a casa? Eh sì, sono obbligato a cucinare quasi, però me lo faccio con piacere. Lei farebbe un pressure test con uno chef famoso? Avrebbe in testa qualcuno? No, quello è un modo, anche perché dall'altra parte ci vorrebbe ancora un altro, ancora più famoso, che riesce a mettere pressione, per cui non so se è così facile trovarlo. Sarà una sorpresa il vincitore di questa edizione o possiamo intuirlo? Secondo lei di Masterchef 3? Eh, non lo so, non mi ricordo più niente. Secondo lei di Masterchef 3?